Il tuo consulente agrometico ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a quasi 15 giorni, come dire che arriveremo fino alla fine del mese. Una grande novità, finalmente piogge, piogge su tutta l'Italia, piogge che saranno abbondanti sul nord Italia, sulle Alpi, regioni tirreniche, regioni appenniniche per l'arrivo di ben 4 perturbazioni. Le temperature saranno al di sopra dalla media al sud fino a circa il 25 di ottobre. Quattro fasi, una prima fase tra il 19 e il 21 di ottobre, quando una prima perturbazione porta a piogge abbondanti sull'Italia, piogge che saranno abbondanti al nord e Toscana. Massime tra 24 e 26 gradi al sud e sulle isole maggiori, tra 23 e 25 al centro, fresco sul nord Italia. Una seconda fase tra il 22 e il 23 di ottobre, un'alta pressione centrata sull'Europa orientale interessa tutta l'Italia, massime intorno a 20 e 22 gradi al centro nord, 23 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Una terza fase tra il 24 e il 25 di ottobre, arriva una seconda perturbazione atlantica dalla Spagna, pioggia al centro nord, rinfresca il centro nord e Sardegna, massime intorno a 23 e 27 gradi al sud. Una quarta fase tra il 26 e il 28 di ottobre, arriva una terza perturbazione atlantica, pioggia ovunque, temperature ovunque in calo, fresco su tutta l'Italia. Tra il 29 e il 30 di ottobre, probabile arrivo di una quarta perturbazione atlantica e porterà piogge sulle regioni di nord-est, tirreniche, levante e ligure, fresco su tutta l'Italia.